o cosa ho fatto? tu non hai idea di cosa ho fatto? and welcome back gargiulli benvenuti io sono eme della smt arsoft e oggi avremo una camscope di un torneo vecchio dove io e me e h hop eravamo in difesa nel primo bj dove abbiamo fatto uno sfraccello carrellata di kill a voi le immagini e allora c'è il cauto il cauto il cauto il cauto il cauto il cauto Capitana Sei fermo Non, 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 non Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In attacco sono passate tutte e tre. Abbiamo finito. Adesso io e Hope ci spostiamo all'ultimo BJ dove dovremo fare un'ulteriore difesa e poi la giornata sarà finita. A voi le ultime immagini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.